cardiologo ucciso a favara indagano i carabinieri omicidio tortorici arrestato un ventenne per rissa aggravata disposte diverse misure cautelari in carcere rete ferroviaria gara da un miliardo e duecento milioni di euro per la nuova linea palermo catania messina disturbi del neurosviluppo esperti si confrontano al chef pass calcio comunità marocchina in festa caltanissetta dopo la vittoria del marocco sul belgio ben trovati un cardiologo è stato ucciso a favara indagano i carabinieri il cardiologo gaetano alaimo è stato ucciso nel pomeriggio a favara in provincia di agrigento secondo una prima ricostruzione il medico sarebbe stato ucciso a colpe di pistola da un paziente adriano vetro di 47 anni la furia omicida sarebbe scaturita a causa di una lite nata dalla diagnosi di scompenso cardiaco comunicata dal medico l'uomo incensurato sarebbe stato fermato dai carabinieri all'interno della sua abitazione nelle campagne di favara lì è stata ritrovata anche l'arma utilizzata per commettere l'omicidio vetro poi è stato interrogato nei locali della locale tenenza dei carabinieri sul posto sono tempestivamente intervenuti carabinieri della locale tenenza e militari del nucleo investigativo del comando provinciale di agrigento il procuratore capo facente funzioni salvatore vella e il sostituto procuratore eliana manno omicidio tortorici arrestato un ventenne e per rissa aggravata sono state disposte diverse misure cautelari in carcere i carabinieri di caltanissetta hanno arrestato un ventenne kevin fiore per l'omicidio di marcello tortorici operaio cinquantenne raggiunto da una coltellata fatale venerdì sera a san domenico per rissa aggravata sono stati arrestati massimo tortorici 45 anni roberto millaci 50 michele fiore 30 e salvatore fiore 53 il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere per tutti solo roberto millaci ancora in osservazione presso l'ospedale santelia resterà ricoverato fino alla sua dimissione in stato d'arresto i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile con il coordinamento della procura della repubblica continueranno ad acquisire elementi utili per fare completa luce sull'accaduto nelle indagini si è tenuto conto anche di quanto emerso dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona in cui è avvenuto il fatto alla vista di diversi passanti che hanno cercato in vano di prestare soccorso alla vittima rete ferroviaria gara da un miliardo e 200 milioni di euro per la nuova linea palermo catania messina l'incremento della viabilità il miglioramento delle infrastrutture siciliane continua a essere un obiettivo non più differibile e in cima alla lista delle istituzioni nazionali la rete ferroviaria italiana ha pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'unione europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori dell'otto funzionale caltanissetta xirbi nuova enna parte integrante del nuovo collegamento ferroviario palermo catania messina la gara ha un valore di circa 1,2 miliardi di euro che saranno finanziati anche con i fondi del pnrr gli interventi consistono nella realizzazione di un nuovo tracciato di 27 chilometri con circa 3 chilometri di viadotti e 4 gallerie per un totale di 20 chilometri il progetto prevede inoltre il rinnovo della stazione di caltanissetta xirbi e la realizzazione del posto di movimento di villarosa per il completamento dell'opera è stato nominato come commissario straordinario di governo filippo palazzo grazie a questi interventi lungo tutto l'asse palermo catania sarà possibile andare da palermo a catania in meno di due ore la riduzione del tempo di viaggio sarà progressiva grazie anche all'attivazione per fasi dei nuovi tratti di linea interventi programmati inoltre garantiranno la velocizzazione dei collegamenti e incrementeranno gli standard di regolarità e puntualità dei treni agevolazione straccia a bollo in sicilia senza interessi e sanzioni pagamenti fino al 31 dicembre ci sarà ancora un mese di tempo per usufruire dell'agevolazione straccia a bollo della regione siciliana a renderlo noto è l'assessore regionale all'economia marco falcone è una misura che era già stata decisa dal governo regionale affermo falcone anche perché il differimento del termine di pagamento è stato molto apprezzato dai contribuenti siciliani e adesso lo stiamo estendendo almeno fino al prossimo 31 dicembre l'obiettivo che c'eravamo prefissati sottolinea falcone può dirsi già raggiunto nel solo mese di novembre 2022 gli incassi da bollo auto per la regione sono aumentati del 255 per cento rispetto novembre 2021 e in appena due mesi abbiamo registrato oltre 183 mila pagamenti significativi dunque i vantaggi in termini di riscossione per i nostri uffici ma soprattutto in termini di concreti risparmi per i cittadini siciliani volenterosi che ancora in questo momento affollano gli sportelli appositi alla data di ieri gli incassi della regione soltanto nel mese di novembre hanno toccato i 32 milioni di euro secondo le prime rivelazioni parziali il netto aumento rispetto ai 9 milioni incassati a novembre 2021 il governo schifani aggiunge falcone inserirà inoltre nelle prossime variazioni di bilancio la possibilità di rateizzare i debiti superiori a 5 mila euro senza sanzioni e interessi a introdurre la misura stracciabollo era stata la legge regionale 16 dello scorso agosto consiglio comunale a palazzo del carmine attenzioni puntate sulla piscina di via rochester ieri pomeriggio si è tenuto un consiglio comunale dove oltre a vari punti si è parlato anche di piscina comunale e alla sua variante urbanistica per lo svolgimento dei lavori dopo lo stadio marco tomaselli adesso i cittadini nisseni vogliono sapere quando potranno usufruire dell'imponente infrastruttura di via rochester la variante è stata approvata ma a preoccupare è la profondità della vasca che attualmente parte da un minimo di un metro e quaranta per arrivare a quattro metri e quindi con queste misure si escluderebbero sport quali pallannuoto e nuoto sincronizzato il sindaco roberto gambino ha precisato che si farà di tutto per dare alla città una struttura completa reddito di cittadinanza parla l'assessore regionale albano dopo l'incontro con una delegazione di cittadini che hanno manifestato a palermo a sostegno della misura di contrasto alla povertà il popolo del reddito di cittadinanza è sceso in piazza a palermo per difendere il sussidio sociale introdotto dall'ex governo guidato da giuseppe conte una delegazione dei manifestanti ha voluto incontrare l'assessore regionale al lavoro nuccia albano per sensibilizzare l'attenzione del governo della regione siciliana nei confronti di questa delicata situazione l'assessore ha riconosciuto la validità della misura soprattutto nel periodo caratterizzato dalla pandemia logicamente questa misura ha aiutato tanto le persone in stato di indigenza perché abbiamo attraversato un periodo di pandemia e quindi è stato veramente una misura positiva inoltre la promessa di prendersi carico delle situazioni di difficoltà lavorativa lamentate dei manifestanti l'assessorato al lavoro si farà carico di fare un tavolo tecnico con le imprese per verificare quali sono le maestranze più richieste di cui loro hanno necessità in maniera tale di portare avanti dei corsi di formazione di apprendistato e potere dare un lavoro dignitoso queste persone che oggi vivono con il reddito in sicilia da gennaio ottobre del 2022 secondo i dati inps ci sono stati 228 mila 152 percettori dal reddito il 17,7 per cento del totale nazionale sul bilancio dello stato per la sola sicilia la misura incide mediamente per un miliardo di euro all'anno la crescita delle bollette di luce e gas del carrello della spesa rende ancora più povere le famiglie che versano in condizioni disagiate e il rapporto svimez prevede a livello nazionale 770 mila nuovi poveri sono numeri allarmanti conclude l'assessore che non possono essere nascosti o minimizzati rappresenteremo al governo nazionale tutte le difficoltà del sud disturbi del neurosviluppo esperti si confrontano al chef pass si è svolto lo scorso venerdì il primo modulo del corso di formazione sui disturbi del neurosviluppo e psicopatologici nel centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario è stata l'occasione per porre l'attenzione su alcuni argomenti molto importanti come fra gli altri il disturbo della comunicazione il disturbo specifico dell'apprendimento e disturbi del movimento si tratta del primo corso di formazione per pediatri di famiglia che viene svolto in sicilia ha sottolineato roberto sanfilippo direttore generale del chef pass che ha inaugurato la giornata sono stati più di 90 partecipanti fra pediatri neuropsichiatri psicologi e terapisti della riabilitazione a presentare il corso è stato sergio speciale pediatra presidente dell'associazione culturale pediatri del centro sicilia che ha spiegato come la necessità del corso sia nata dopo la pandemia a causa di grandi sconvolgimenti sia all'interno della società sia all'interno delle famiglie dove si è visto come disturbi relativa al neurosviluppo e psicopatologici siano aumentate a livello esponenziale poi ha preso la parola a gherardo rapisardi pediatra e neonatologo che ha evidenziato come l'italia sia l'unico paese al mondo dove esiste il pediatra di famiglia ci sono professionisti pediatri continua che fanno una sorveglianza evolutiva nel tempo per conoscere bene il bambino è importante cogliere tempestivamente ai segnali di allarme di un disturbo del neurosviluppo in questo è fondamentale creare un rapporto di collaborazione profonda fra i genitori il bambino e il pediatra il secondo modulo del corso di formazione avrà luogo il 20 e il 21 gennaio 2023 attività produttive 26 aziende siciliane alla fiera di dubai le stesse imprese hanno risposto all'avviso pubblicato dalla regione a maggio saranno 26 le aziende siciliane che rappresenteranno l'isola al prossimo big 5 di dubai l'importante fiera che si svolge ogni anno nel medio oriente dal 5 al 6 dicembre 26 aziende siciliane del sistema casa saranno presenti alla fiera big 5 di dubai si tratta delle imprese selezionate fra quelle che hanno risposto all'avviso pubblicato dall'assessorato regionale alle attività produttive lo scorso maggio l'obiettivo del bando era selezionare le realtà siciliane interessate a partecipare in presenza ad alcune manifestazioni fieristiche internazionali fra il 2022 e il primo bimestre del 2023 sarà il dipartimento dell'attività produttiva a farsi carico dell'iscrizione nel catalogo della manifestazione delle imprese relative all'affitto dell'area espositiva dell'allestimento e dell'arredamento di base degli stand grazie al sostegno della regione sottolinea l'assessore alle attività produttive ed itamaio alle realtà imprenditoriali della nostra isola offriamo vetrine importanti e nuove opportunità di promozione in un momento di ripartenza dell'economia dopo gli anni difficili della pandemia fare conoscere i nostri prodotti e le nostre competenze in contesti internazionali di primo piano come quello della manifestazione nel paese arabo è necessario per la crescita di tutti i nostri comparti produttivi il big 5 di dubai è una delle principali rassegne globali nella quale si danno appuntamento espositori nazionali e internazionali dei settori arredamento per la casa materiali per l'edilizia ceramica costruzioni attrezzature e tecnologia è il più grande evento focalizzato su queste tematiche in medio oriente africa e asia meridionale che si svolge ogni anno e attrae oltre 67 mila professionisti del settore di tutto il mondo archeologia progetto per 200 studenti della caponnetto di calzanissetta diverse iniziative fino a venerdì 200 studenti tra oggi e venerdì sono i protagonisti di a scuola di archeologia conosciamo e tuteliamo il patrimonio della sicilia centrale un progetto della scuola caponnetto stamani il primo incontro degli studenti insieme al colonnello gianluigi marmora del nucleo tutela culturale dei carabinieri di palermo molta la curiosità dei piccoli studenti sull'archeologia e su come si conducono le indagini quando ad essere sottratto è un reperto archeologico nell'ambito del progetto scuola di archeologia i bambini delle classi 4 della caponnetto hanno incontrato i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di palermo e hanno capito hanno compreso quanto sia importante proteggere tutelare il nostro patrimonio culturale perché questo particolare speciale nucleo dei carabinieri ha proprio il compito di proteggere il nostro patrimonio e soprattutto di recuperare quel patrimonio culturale archeologico che purtroppo è disperso a causa dell'attività predatoria dei cosiddetti tombaroli ladri di antichità e in questo progetto come insomma lo scorso anno sono coinvolti soprattutto i bambini dai 9 agli 11 anni quindi le classi quarte e quinte della scuola primaria e le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. Dalla piattaforma il database Leonardo alle informazioni che riguardano la tutela del patrimonio un percorso che è stato avviato lo scorso 25 ottobre che prevede l'attività esattamente come lo scorso anno riscuotendo successo nella popolazione studentesca coinvolta alla base della progettualità c'è la collaborazione tra Sicilia e Antica, Parco archeologico di Gela, Parco archeologico di Argentina, la villa casale di Piazza Armerina il comitato Gibil Habib ed è il nucleo della tutela culturale dei carabinieri di Palermo. Grazie a questo progetto ha dichiarato già precedentemente il dirigente scolastico Maurizio Lomonaco abbiamo messo in primo piano l'archeologia facendo riscoprire il valore del patrimonio archeologico della Sicilia centrale e la storia degli usi dei popoli del passato che l'hanno abitata. Tracce del passato a Santo Spirito fino al 4 dicembre libri storici in esposizione. Sono numerose le tracce del passato oggetti come nel caso di un'antica portantina ad esempio ancora opere anche strutturali che raccontano i lunghi secoli di storia dell'abbazia di Santo Spirito. L'abbazia è un piccolo gioiello della città, intanto già risale al 1095 e già di suo un gioiello in quanto la storia di Ruggero II fino ad arrivare ai nostri giorni. La portantina serviva per portare i sacerdoti che portavano la comunione agli ammalati, serviva confessionale nel tempo e adesso serve come storico, giusto per far vedere gli anni che sono passati nel tempo. E comunque sia dice di un momento di silenzio, un momento di preghiera, un momento di contemplazione, quindi viene scelta l'abbazia di solito per i matrimoni, ma non è solo matrimonio, è storia, è cultura, è tempo che è passato e gente che si è avvicendata nel tempo. Tra quadri, panche e mobili d'epoca ci sono anche molti libri con le loro caratteristiche, rilegature, pagine ingiallite usurate dal tempo e che vengono custoditi all'interno di uno dei locali dell'edificio. Una stanza diventata biblioteca nella seconda metà degli anni 60 e che si trova proprio alle spalle del fonte battesimale. Fino al 4 dicembre la sua porta si apre per far ammirare alcuni testi che vanno dalla fine del 400 alla fine dell'800, esposti in occasione della mostra il libro e i libri. Siamo partiti dalla Bibbia, quindi abbiamo in questa biblioteca un contenitore dei libri che nel tempo i padri che si sono avvicendati nel tempo, in modo particolare i fratelli Cimino, padri Caetano Cimino in modo particolare stiamo dicendo, è un raccoglitore dei libri, ma abbiamo trovato insieme con alcuni collaboratori della parrocchia dei libri molto interessanti, importanti, datati, per esempio questa Bibbia del 1574 edita a Venezia e li vogliamo mettere a conoscenza non solo della comunità ma anche della collettività cittadina. Ci abbiamo pensato insieme con l'architetto Falzone, con Felice Dell'Utri e con Fabiana Zammarano, quindi a spostare un po' i testi, a vedere un po' i testi, a mettere qualcosa che descrivesse il testo e da dove fosse venuto, a chi ha curato comunque l'edizione, la data e per rendere visibile a tutti quanti, alla comunità parrocchiale che sapeva di questi testi che c'erano qui dentro, ma non aveva contezza che fossero testi assolutamente importanti. Concerto di Natale, fervono i preparativi dell'undicesima edizione a Sant'Agata. Si avvicina sempre più il periodo delle festività natalizie, novembre ormai gli sgoccioli e già per le strade si respira un'atmosfera di festa tra luci, presepi e qualche albero già allestito. Anche l'associazione Gesù Nazareno a poche settimane dal rinnovo del direttivo si prepara a celebrare il Natale con il consueto appuntamento all'insegna della musica, giunto alla sua undicesima edizione. Le voci dei componenti del coro gospel jazz chorus con la direzione del maestro Raimondo Capizzi riecheggeranno tra le navate della chiesa di Sant'Agata al collegio, location scelta ancora una volta per l'evento. Quest'anno l'associazione ha aggiunto anche un fine solidale alla manifestazione, raccogliendo nella stessa serata anche beni alimentari da destinare a chi ne ha necessità. Per noi si tratta di una ripartenza a tutti gli effetti, già lo scorso anno avevamo, dopo la pausa del 2020, iniziato il concerto di Natale però in un'edizione in mezzo a tante limitazioni. Quest'anno invece ci auguriamo che possa essere una serata molto partecipata del pubblico e con il ritorno alla normalità. Quest'anno abbiamo anche avviato una nuova iniziativa, stiamo chiedendo al pubblico, al numeroso pubblico che ci aspettiamo ci possa essere per quella serata, di esprimere un gesto di solidarietà portando anche dei generi alimentari che si possono poi a fine serata offrire all'associazione Sant'Agata, che è un'associazione che svolge la sua attività nell'ambito della parrocchia Sant'Agata, donando a tante famiglie bisognose della nostra comunità generi di prima necessità. Ci auguriamo e siamo certi che il pubblico risponderà numerose a questa nostra iniziativa in modo che possa essere un Natale diverso anche per tutti. L'undicesimo concerto di Natale, The Christmas Soul, si svolgerà sabato 17 dicembre alle ore 20.15. Idalgo con Asta e Candela, collocazione e inaugurazione dell'opera di Alex Becchina In occasione del cinquantesimo anniversario della scombarsa di Gino Morici, pittore e decoratore palermitano, lunedì sera al Palazzo delle Ex Poste Centrali è stata presentata l'opera di Alessandro Becchina, che raffigura un Idalgo con Asta e Candela. Il concetto di Idalgo ha la sua origine in Spagna e Portogallo ed è sinonimo di nobile sebbene colloquialmente si utilizzi il termine per riferirsi alla nobiltà non titolata. L'opera è stata realizzata su commissione della Fondazione Sicana dal presidente Giuseppe Di Forti nelle officine Comart di Sambuca di Sicilia. È l'artista che ha affrescato il Palazzo delle Poste Ex Poste Centrali dove ci troviamo e quindi ci è sembrato anche doveroso ricordarlo segnandone la presenza anche a Caltanissetta con questa opera realizzata contemporanea, realizzata da Alex Becchina rappresentando il personaggio che è ispirato per tutta la vita a Gino Morici, cioè l'Idalgo. Quindi scopriremo quest'Idalgo, in questo caso è un'opera scultorea veramente meritevole di essere vista. L'Idalgo non è altro che un personaggio fantasioso, però quasi autobiografico. E nel Gino Morici, che rappresentò l'Idalgo sia in pittura, sia in parecchi disegni e anche molte acqueforti, rivedeva appunto questo personaggio in vari ruoli. Infatti c'è l'Idalgo poeta, l'Idalgo medico, l'Idalgo artista, l'Idalgo musicista e di volta in volta appunto lui creava questo personaggio, ripeto, personaggio quasi meccanico dove gli arti, il corpo, non è altro che un assemblaggio di elementi meccanici dalle ruole detentate alle leve, alle molle, uniti tutti da viti e bulloni. Un moderno Hamleto al Teatro Comunale Margherita per l'apertura della nuova stagione. Si apre il sipario del teatro Regina Margherita di Caltanissetta partendo da Hamlet, liberamente ispirato al testo di William Shakespeare con l'adattamento di Alessandro Angelini e Antonio Prisco. In scena Giorgio Pasotti e Maria Angela D'Abraccio ed un cast che convince ed ipnotizza gli spettatori fino a trasportarli dentro la storia di Hamleto. Pasotti attraversa un'importante prova attoriale, fa emergere e rivive la battaglia interiore di Hamleto che ancora una volta nel tempo si impone come personaggio dalla psiche complessa e profonda. La regia di Tavassi lo pone proprio lungo la linea fisica e temporale all'interno dei contrasti anche profondi della psiche di Hamleto. Convince anche la scenografia, modulare ed essenziale al primo spettacolo di svelamenti in molti giovani presenti in platea vista la possibilità del biglietto che prevede un ingresso fino ai 18 anni a soli 6 euro. Come ha dichiarato l'assessore alla cultura Marcella Natale, una scelta del prezzo agevolato voluta d'intesa con il sindaco Gambino per coinvolgere i giovani e portarli in teatro a vedere gli spettacoli dal vivo. Prossimo appuntamento il 15 dicembre con decadenze di Bercoff. Dopo questo spettacolo così fresco e nello stesso tempo così profondo, penso che i ragazzi torneranno sicuramente con tanto piacere per gli altri spettacoli della stagione perché è importantissimo avvicinare i giovani al teatro. Calcio comunità marocchina in festa a Caltanissetta dopo la vittoria del Marocco sul Belgio al campionato del mondo in Qatar. Ora testa al Canada. Domenica il Marocco ha battuto il Belgio e conquistato un successo significativo in chiave qualificazione. La formazione marocchina, dopo un avvio affannoso, trova l'equilibrio tra i reparti riuscendo a limitare il Belgio. Nella ripresa le reti decisive. Sabiri sblocca il risultato con un calcio di punizione e nel recupero il Marocco trova il gol che chiude la partita con Abuklal che anticipa tutti sul primo palo piazzando la palla sotto la traversa. La comunità marocchina è ben presente a Caltanissetta, sono stati tra i primi migranti a trasferirsi nella nostra città e sono ben felici della loro nazionale di una qualificazione agli ottavi di finale da giocarsi giovedì contro il Canada. Bella squadra veramente, si è giocato molto bene, non manca l'indie della forza, tutte cose l'aveva completo. Siamo contenti di avere questa partita, speriamo che sembrava andare così. Spero che arriverà al finale, però la verità, per essere sincero, anche al quarto finale siamo perfetti, con la nuova squadra c'è tutti i giovanili, c'è Zia, c'è Sabiri, c'è il coach marocchino pure, giovani pure e quindi speriamo al quarto finale abbastanza, per noi va benissimo. Basket Serie D, Invicta vittoriosa a Sant'Agata, primo posto consolidato dopo il quarto acuto consecutivo. L'Invicta lotta con grande cuore a Sant'Agata e porta a casa una vittoria importantissima in ottica playoff, imponendosi con il risultato di 60-72. I padroni di casa partono forte in attacco, imbavagliando le guardie nissene al tiro e bloccando il contropiede ospite. L'Invicta, mai stata sotto nelle prime gare di campionato, dimostra tutta la sua maturità e non subisce la botta e grazie ad una rotazione più ampia comincia ad alzare l'intensità difensiva. Terzo quarto molto in equilibrio con cambi tattici da entrambe le parti e la partita resta tirata con le squadre che si caricano di falli. Nel finale la squadra di coach Spena sale in gattedra e con una serie di tiri allunga sui padroni di casa e controlla la gara fino alla fine senza soffrire. Per la formazione nissena si tratta della quarta vittoria consecutiva che consolida il primato davanti a Capodorlanto, ostico avversario che l'Invicta affronterà domenica 4 dicembre giocandosi il primato. E' tutto, vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità, grazie per l'attenzione e appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che potrebbe essere particolarmente delicata per le estreme regioni meridionali per colpa di un centro di bassa pressione che si sta approfondendo sul versante ionico del sud Italia. Lo capiamo anche dalla previsione della nuvolistà sul nostro paese, con le nubi che al sud saranno particolarmente estese e insistenti, nuvolistà anche al nordeste sul versante adriatico, mentre schierite anche localmente ampie iniziano a farsi avanti al nord ovest sul medio alto tirreno. Come precipitazioni diciamo all'estremo sud vedrà piogge di forte intensità, in particolare la Calabra, la Basilicata e il Salento, lì non escludiamo anche qualche temporale, ma locali piovaschi sono attesi anche sulle isole maggiori e sul medio adriatico. Quindi in definitiva giornata, ripeto, delicata nelle estreme regioni meridionali, versante ionico con anche parecchio vento in queste zone e piogge che localmente potrebbero essere davvero piuttosto abbondanti. Qualche acquazzone anche in Sicilia, specie sul versante ionico, nel sud della Sardegna e ancora qualche goccia sul medio adriatico, ma nel frattempo al centro nord tornano anche schierite sempre più ampie e decine, specie sulle regioni più occidentali. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno, Caltanissetta, servizio diurno, Eufrate, via Filippo Turati. Servizio notturno, Vizzini, Viale Trieste.